Ciao creatura, io sono Ecco di Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai ASMA Allora, premetto una cosa, ho provato la matita, quella per il contouring delle labbra, è dello stesso di anticolore delle mie labbra Perfetto, vediamo adesso quanto durerà, quanto mi dura sulla pelle, vorrei chiederti se da Action o da qualche parte dove posso trovare uno spray per fissare il mio make up O se c'è qualcosa per fissare il rossetto Non ho filtro ma ho provato a farmi le lentiggini, non so se si vedono, con una matita Così tanto per fare il video perché avrai forse già visto o vedrai un roleplay, non voglio fare spoiler E avevo un make up particolare che adesso ho tolto perché non volevo spoilerartelo in questo chit chat E ho fatto, però magari se me lo ti verrà da chiedermelo, forse o forse no, comunque io l'avrei chiesto in un video quindi rispondo già Ho provato questa matita, ho provato questa matita, che è una matita di Kiko Occhi E' un Kajal marrone scuro Solo picchiettato e poi ho fatto così, tampurato con le dita Così per curiosità, perfetto, proviamo Niente, stavo facendo casino fuori comunque Ho provato con quella matita lì Tanto non è che ci esco Poi con questo make up ho fatto solo per fare il video E mi sembrava un po' più bucciosa Per il personaggio che ho interpretato nel roleplay E poi mi farei sapere sotto a quel video Forse mi hai già O forse mi hai già commentato quel video Non so se uscirà prima questo poi l'altro Comunque E Niente, in questo video come avrei letto dal titolo Volevo parlare della solitudine Ma non tanto della solitudine L'effetto di star solo in generale Ma è più che altro un fattore di normalizzare il fatto di fare le cose da soli O meglio da sole Perché quando si vede un ragazzo, un uomo fare le cose da solo Si sembra sempre più normale, tra virgolette Di fare le cose che di vedere una donna, una ragazza fare qualcosa da sola Non so perché nella mentalità degli esseri umani Ho notato questa cosa Che se fai una qualcosa da soli sei la sfigata Perché devo sempre avere qualcuno con cui Cioè se io quel giorno voglio fare una cosa Perché devo aspettare che ci sia qualcun altro Perché non farlo da soli dove è il problema E vorrei che si normalizzassi di più questo pensiero Sia nelle donne che negli uomini Che in tutte le creature del regno Dico sa io ma anche dell'universo Che è bello e normale fare le cose da soli Io all'inizio prima di star male Facevo sempre tutto da sola E tant'è che una persona mi ricorda e mi disse Ah io mi ricordo di te tu sei quella che vedo sempre da sola a far tutto Dopo mi sono ammalata E non sono più riuscita E adesso sono tornata in me finalmente E sono ritornata a fare quello che voglio quando voglio Perché fare le cose da soli dal mio punto di vista È anche la libertà di decidere di fare qualcosa Senza dover aspettare gli altri Senza dover con i propri tempi La bellezza e la libertà di dire Vado dove voglio Quando voglio Se conoscete questo tipo di libertà Sapete di cosa sto parlando Chi invece ha bisogno di farsi sempre accompagnare Dappertutto E che non fa una cosa Se è da sola Se non c'è persona X Non potrà mai capire Di che cosa sto parlando E le auguro a queste persone di provarlo In prima persona Perché è una delle sensazioni migliori Che si possa provare secondo me Oltre a tante altre Ma è proprio Bello 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 Fare le cose da soli Farei normalizzare questa cosa Perché ci sono tante tante persone Che Tante donne Che non Fanno quello che vorrebbero fare Perché sono da sole Non hanno nessuno con cui farlo Ok Non sto parlando di Camminare da sole In una strada buia di notte E che Senza dubbio Magari in una città pericolosa Eccetera eccetera Non sto parlando di questo Sto parlando di cose semplici Che per alcune persone Possono essere uno scherzo Una cosa Detta massima Cosa vuoi che sia Per altre persone È un problema Io lo so Perché sono stata Sia dalla parte del Fare le cose da sola Senza problemi Sia dalla parte del No no Io Per me è un problema Farlo da sola Ok Quindi So Perfettamente Di cosa sto parlando E Magari Vorrei appunto Normalizzare questa cosa Perché Spesso Si anche vesti male Tipo Se io vado da sola Al ristorante Dovrebbe essere Una cosa normale Cioè Non è che bisogna Per forza andare Al ristorante Sempre in diecimila In due In quattro In tre Dovrebbe essere normale Anche andarsi Da sole No E Anche farsi L'aperitivo Da sole Andare al cinema Da soli Adesso io al cinema Non vado proprio Perché non mi piace Al cinema Io in generale Non ci vado Perché non mi piace Però Penso che un giorno Proverò anche L'esperienza Di andarci da sola Perché sono sempre Andata in compagnia Forse non mi piace Per quello Perché ho avuto Sempre i vieti Le cose Dover rispettare I tempi degli altri Magari Da sola È diverso Non lo so Dover provarlo E Sono andata A mangiare da sola E mi è piaciuto Tanto Ci sono andata Tante volte Ed è proprio Bello Perché hai I tuoi tempi Hai tutto E Anche per me Bellissimo Andare al mercato Da sola Ti godi Proprio Il momento Non c'è nessuno Che Non c'è nessuno Che ti distrae Nessuno Che ti dice Ehi Quindi Ti compri Quello che vuoi Quando vuoi Stai quando vuoi Via Torni quando vuoi Se vuoi fermarti A mangiare Se vuoi fermarti A perderti un caffè Se non vuoi fermarti A fare Niente altro Che Shopping Lo fai La libertà Di fare Quel cacchio Che ci vuole Imparate Dalla dea Ecate L'indipendenza E la libertà Di andare E fare Quello che volete Quando volete È una sensazione Bellissima Che mi mancava Tantissimo Quando stavo male Adesso Sono ritornata A me stessa E sono troppo Felice E Anche se Magari Qualcuno Vi guarderà Strano Più Inizieremo A fare questa cosa Più diventerà La normalità Quindi Bisognerà Un po' Spingersi Uscire dalla Comfortzone Del Oh mio Dio Mi guardano male Ma chi se ne frega Chi se ne frega Gli guardano male Che è un problema loro Non è un problema nostro Questo dubbio È molto bello Andare a fare aperitivo Con un'amica Un amico Un gruppo di amici Perché si ride Si scherza Si sta insieme In allegria Anche lo shopping Ci si consiglia Eccetera eccetera E poi c'è chi Proprio Non è Autosufficiente Che non guida Non ha messo il trasporto Non ce la sente Neanche a prendere Un treno Eccetera eccetera Ero anche io così Ero anche io così Però Dentro di me Mi scocciava Anche chiedere I passaggi Perché Comunque Sembrava Mi sembrava Di Volere fare le cose Con le altre persone Di usarle Perché io non avevo La macchina Non riuscivo a guidare E Non potevo Contraccambiare Il fatto di Andiamo insieme Guidava sempre L'altra persona E quindi Mi sentivo in colpa Ecco E Anche se magari L'altra persona Lo faceva volentieri Neanche ci pensava A queste cose Come al solito Erano tutti Beghe Erano tutti Beghe mentale Che mi facevano Mi facevo da sola E E sicuramente Anche tu Ti stai facendo Delle Dei Dei problemi Che non ci sono Che gli altri A cui gli altri Non stanno pensando Ma tu Pensi che sia un problema Però diciamo Che questo Mio pensiero Mi ha spronata Nel Risbloccarmi A fare Le cose Da sola Cioè Se io voglio Andarmi a fare Una pasticciata E nessuno Vuole venire con me Chi se ne frega Ci vado Io non ho bisogno Degli altri Per andarmi a fare La pasticciata Me la vado a fare Basta Anche le cose Più semplici Che una volta Sembravano per me Anche sull'uscire di casa Per me era un problema Pian piano Mi sono sbloccata Adesso Guido fino a Un'ora di distanza In auto Per dirti Esempio Che prima Te avevo fatica Solo uscire a piedi Di casa Spero che anche tu Creatura Riesca a raggiungere Questo Questa libertà Che è una libertà E Per quanto riguarda C'era qualcuno Tanto tempo fa Che mi aveva chiesto Tu come hai fatto Ho cercato di spiegare Qualcosina Nei messaggi Però nei messaggi Non è proprio facile E Intanto Non ti devi Appoggiare a qualcuno Devi avere tu Il desiderio Profondo Di voler Cambiare Questa situazione Perché appunto La protagonista Della tua vita Se tu Se non te la cambi Tu Non te la cambia Nessuno Ricordando Questa frase Che io Mi ero messa Anche come Screensaver De telefono Per ricordarmela Bene Che deve essere Il tuo mantra Creatura Che è stato Il mio mantra E lo sarà Per sempre E Al di là Di questo Quindi In primis Tu Devi essere Convinta Di voler Cambiare Altrimenti Non cambierai Mai E poi Devi Sforzarti Di uscire Dalla comfort zone Ovvero Però Non è che puoi Pretendere Che dall'oggi Al domani La tua vita Si sistemerà Così Per magia Devi impegnarti Quindi Pian piano Un passo alla volta Non pretendere Di fare subito Le grandi manovre E se per te È un problema Uscire di casa Allora Anche semplicemente Uscire di casa Esci E stai fuori Esci di casa Ti impegni Ti vesti Ti prepari Esci di casa Stai via Non so Cinque minuti Fai una passeggiata Di Se sono cinque minuti Troppi Fai una passeggiata Di due minuti Torni a casa Il giorno dopo Una passeggiata Di cinque minuti La volta dopo Dieci minuti E via così Dopo Quando Ti sentirei Abbastanza sicura Ma Anche solo Sotto casa Ecco Nel tuo quartiere Andrai Sempre più distante Non lo so Nel centro Adesso non so Quanto grande Sei la tua città La mia In dieci minuti L'ho girata tutta Quindi Dopo l'uscita Da dieci minuti Sono passata Subito al treno Perché Hai lampadente Ma non riesci a guidare Nessun problema Prendi il treno Prendi i messi pubblici E i messi pubblici Con tutti i loro ritardi E inconvenienti Così Ti faranno Viene voglia Anche Guidare Quello che è Successo a me E Fai fatica A guidare La macchina Perché Devi pensare A troppe cose Prenditi la macchina Col cambio automatico Che è bellissima Perché Devi solo pensare A Non schiantarti Andare addosso la gente O Investire Investire le persone Una cosa del niente E Accelerare Frenare Basta Non devi pensare A nient'altro Ovviamente La strada È quello Però Inizia prima Con dei piccoli percorsi Usa Aiutati con il navigatore Che ti dice Dove andare Magari Le prime Dieci volte Vai sempre avanti Indietro Nello stesso punto Che te frega A te Tu devi pensare Al tuo allenamento Non devi pensare Ma cosa penseranno gli altri Gli altri hanno la vita I pensieri Tammente Pieni Della loro vita Che non Non si accorgeranno Neanche che tu Farai dieci volte Lo stesso percorso A nessuno Frega niente Tranquilla E se anche qualcuno Disse qualcosa Che se ne frega Tu lo devi fare Per te stessa Ognuno ha il proprio allenamento Ha i propri esercizi Da fare Nella propria vita E Insomma Così Pian piano Decidendo tu Decidendo tu Qual è il tuo limite Qual è il tuo Obiettivo Qual è La cosa Che vuoi superare Quale delle tue cose Ti fa più paura Fai quella Fai quella Che ti fa più paura Creatura Devi sforzarti A uscita Di uscire Dal tuo comfort zone Con i tuoi tempi Però C'è chi ci riesce Il giorno dopo C'è chi ci riesce Dopo dieci giorni Venti giorni Trento giorni Un mese Non importa L'importante è Provare 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 E vedrai Che poi L'abitudine Ti abituerai A Uscire Dalla comfort zone E poi Non sarà più Così Difficile Ok Se proverai Sbaglierai Non importa Il giorno dopo Proverai Sbaglierai Di nuovo E così 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 E poi Sbagliare Non ti sembrerà Più Un problema Così E magari Non sbaglierai Più Anche perché A forza Di fare le cose Le impari E niente Questo era Il succo Del discorso Non mi sono preparata A discorsi Cose Volevo solo Dirti Creatura Normalizziamo Il fatto Di fare Le cose Da soli Di non Aspettare Gli altri Per farle Perché il tempo Passa E dopo Perdiamo Delle occasioni Quindi Sicuramente Ancora Tempo Per migliorarti E per Raggiungere I tuoi obiettivi Perché fino Anche a 100 anni Avrai Tempo Per farlo Però Ti consiglio Di iniziare Adesso Fatti Un piano Qual è Il tuo obiettivo Cosa vuoi raggiungere E Gradualmente Passo Capopasso Potrai Raggiungere Il tuo obiettivo Io ne ho raggiunti Tantissimi Perché Man mano che Raggiungevo L'obiettivo Mi mettevo Subito dopo Un altro obiettivo Da raggiungere E pian piano Così sono Riuscita a fare Un sacco di cose Che volevo fare E adesso Mi butto a fare Le cose Le esperienze Più Impensabili Che Non avrei mai pensato Qualche anno fa Di fare Pensavo già Che fosse finita Per me Invece Cioè Mi si è aperto Un mondo Che non ti dico E E ho ancora Tanta Tanta Strada Da fare Perché Ho Un sacco Di altri Obiettivi Da raggiungere E un sacco Di Ancora Timori Però Nonostante Questo Mi butterò E proverò Se mai Valerò Pazienza Continuerò A provare E Spero Che questo Mio video Possa aiutare Qualcuno Se avete Qualche dubbio Oppure se Non sapete bene Come iniziare Dipende dal problema Che avete Ecco Escrivetemi pure Anche su G In privato Cercherò di aiutarvi Come posso Non sono una psicologa Però Sono passata Dove Siete anche voi Quindi Posso aiutarvi Con la mia Esperienza Personale Che Ovviamente Non è Lo stesso Percorso Cioè Il percorso È diverso Per tutti Però Si può Pensare Insieme Perché io Mi sono allenata Molto a pensare Come risolvere Una situazione E quindi Adesso sono Molto schillata In questo Posso mandarmi Questa cosa Metterò anche Nel curriculum Perché appunto Riesco a trovare Delle soluzioni In fretta E E Degli esercizi Anche In base Al problema Al tipo di problema Potresti fare così Potresti fare così Sempre un passo Alla volta L'importante È che Tu abbia Molta Pazienza Con te stessa Che Se fallisci Non ti abbatti Ma Provi lo stesso Mille volte Anche se serve E riprovi 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 Questa è la cosa Fondamentale Non arrendersi Vi è dato Indugiare Ok Quindi Non ci si Non si perde La pazienza Con se stessi Non si rinuncia All'obiettivo Si continua A provare Nonostante Gli errori Nonostante Gli imprevisti Nonostante La difficoltà Si continua Non ci si ferma Puoi prenderti Del tempo Per te Certo Devi E E poi Raggiunto L'obiettivo Non ci si ferma Si fa Un altro obiettivo Passo dopo passo Anche piccoli Obiettivi Ma l'importante È che una volta Raggiunto Se ne crea Uno nuovo Questa è E quindi Nella mia mente Per normalizzare Questa cosa Del fare le cose Da soli Bisognerebbe Iniziare Pian piano A fare delle cose Tra virgolette Semplici No Come andare A bere un caffè Da soli Non so Mi viene in mente Quello Andare a Comprare qualcosa Da soli Da soli Dipende Da te Creatura Cos'è che Non riesci a fare Da sola Sicuramente Non sto parlando Di visite mediche O cose del genere Ok Cos'è che Possiamo Oggettivamente Fare da soli Ecco E che però Veniamo visti male Le persone Vengono viste male Sia uomini Che donne Ma soprattutto Ho notato Le donne Perché Vieni vista male Perché ho visto Ho visto Delle donne Fare le cose Da sole E sono Wow Voglio essere così Ho visto Delle altre donne Appoggiarsi Al marito Fare Tutto Tutto Sempre Col marito Qualsiasi cosa E poi Ho visto Il marito Stare male O morire E queste donne Non sapevano più Uscire di casa Fare nulla Ho detto No no Sbagliato Sia marito Sia marito Che genitori Eccetera Eccetera Si ritrovano Che se non hanno Qualcun altro Che fa per loro Loro si trovano Persi Che non sanno Fare nulla E io ho detto No no Io non farò Quella fine Io no 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 Donna indipendente Che fa tutto da sola Mi piace Donna che Se non c'è Persona X Non sa fare niente No 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 Ok Dentro la mia testa Ho queste immagini Ho visto Ho avuto gli esempi Cosa non voglio essere Cosa voglio essere E tu creatura Cosa vuoi essere Davvero Una donna Indipendente Una creatura indipendente Vuoi essere Una che Non sa neanche Sare un dito E non c'è Persona X Che gli fa Le cose No Non mi piace Per carità Ognuno può fare Quello che vuole Nella propria vita Si decide Di fare La parassita E Non sa fare niente Se non c'è Persona X È una sua libera scelta Ovviamente Non sto giudicando Da quel punto di vista Sto dicendo Cosa per me È bello E cosa per me È No non voglio essere così E Cosa è Giusto per me Non bello Giusto per me Per me Per la mia vita Ho deciso Che non voglio essere così Ok Poi Se altre mille persone Vogliono essere così A fare loro Va benissimo Poi si ritroveranno Che da sole Non sapranno fare Non sapranno neanche Farsi il bidet A casa Una cosa a casa A fare loro Non è un mio problema Poi se a loro Bruderà Il sedere Ok Io non voglio Il sedere Che brude Ok Voglio essere Bella pulita Indipendente Penso che tu abbia Capito La mia Metable Il mio messaggio Ecco Anche se Magari Un po' Incasinato E E niente Fammi sapere Tu creatura Che cosa vuoi essere E Che cosa stai facendo Ogni giorno Per Raggiungere Il tuo obiettivo Magari Prendo spunto Anch'io Per qualche idea Come tu puoi prendere Spunto Dalle mie Perché la mia Community Devo dire Che si è costruita Proprio sul Poche persone Ma buone E Di questa cosa Ne sono sempre Grata Perché Si è creata Proprio La community Perfetta Secondo me Che Ho visto Anche tra i commenti Se qualcuno Chiede qualcosa C'è sempre qualcuno Che risponde in modo Educato Gentile Bello Quando vedo Ste cose Io Il mio cuore Si riempie di gioia Proprio Cioè Persone che tra di loro Si aiutano Anche se non si conoscono Però fanno parte Dello stesso regno Bellissimo Gli haters Qua non ci stanno Proprio perché Non pervenuti Quindi proprio Si è creato Proprio il clima Perfetto Per l'SMR Cioè Proprio Una Comunità Pulita Unica Perfetta Dovrebbe essere Se fosse così Il mondo Sarebbe un posto Tipo il paradiso Pensano Quindi Se te la senti Di aprirti Raccontarti Raccontarci Nei commenti Che cosa vuoi essere E che obiettivi Hai Sei posta Che obiettivi Stai raggiungendo E anche In quale maniera Ogni giorno Tu ti impegni Per raggiungere I tuoi obiettivi Faccelo sapere Creatura E Tanto Sei nel posto Sei in un posto Sicuro E Di solito Nessuno commenta Negativamente Chi commenta Negativamente Verrà Ghigliotinato Spero che Questo video Ti abbia fatto Rilassare E se non ti ha fatto Rilassare Spero che ti abbia fatto Riflettere Sull'importanza Dei Normalizzare Le Fare le cose Do a sole Da mio punto di vista E Non ho altro da dire Grazie per il like Grazie per seguirmi sempre Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura